Eccoci all'hotel Paradiso, completamente ristrutturato a fine agosto, praticamente a metà agosto del 2013 L'albergo ha anche un parcheggio sul retro per 3 o 4 macchine, adesso vi porto la scoperta degli interni Uscendo dall'ascensore adesso vi faccio vedere la nostra camera, la 202 Eccoci qua, camera attrezzata con il terzo letto per la bambina, grande Il nostro comodissimo letto matrimoniale, tutte le finiture qua sono veramente di pregio Veramente di pregio, c'è anche il condizionatore, vi faccio vedere anche il bagno Veramente arredato super bene questo albergo Basca con attenzione idromassaggio, perché qua dentro c'è anche l'idromassaggio E' davvero un bellissimo bagno, una bellissima camera, coperta anche da wifi, quindi si può navigare Televisore con digitale terrestre e direi che c'è tutto Dal terrazzo dell'albergo si domina il mare che si vede dalle camere Finiamo con la colazione Ciao Relly Che mangia la sua Nutella, parola bene le sue fette Questa è anche la colazione Grazie 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 a tutti